Ti piacerebbe avere un look unico e prezioso per valorizzare il tuo stile? Se la tua risposta è sì, certo, ho la soluzione che fa il caso tuo. Mi chiamo Chiara e da 12 anni faccio parte del team di Davide Coppola Parrucchieri. Nel nostro salone abbiamo già da tempo creato un metodo di lavoro che ti permette di avere uno stile unico e prezioso. Sto parlando della tecnica di colorazione gioielli in testa. Quando abbiamo dato vita al nostro metodo di lavoro siamo partiti dal presupposto che i tuoi capelli sono l'accessorio più prezioso che indossi, che a differenza di una borsa non puoi cambiare per ogni circostanza. Sì, è vero, puoi cambiare l'acconciatura, scegliere una piega liscia al posto di una mossa, legarli o mantenerli sciolti, ma il colore dei capelli è qualcosa che dura nel tempo, proprio come gioielli. Per questo motivo le nostre colorazioni non ti bruceranno i capelli, anzi ti permetteranno di avere uno stile quotidiano proprio come se fossi appena uscito dal parrucchiere, anche a distanza di mesi. I nomi dei gioielli in testa sono ispirati proprio da alcuni gioielli. Eternity, per un colore senza tempo. Trinity, dove tre fasce di colore si fondono per crearne uno solo. E Trilogy, una sfumatura generata da tre e nuanze che si sfumano, generando un colore unico. Ma oggi ti voglio parlare del nuovo arrivato, Chiara Luna. Chiara Luna è una tecnica di colorazione che, proprio come dice il nome, oltre ad essere frutto di un mio lavoro di ricerca e approfondimento, è anche ispirato alla Luna, per due motivi importanti. Il primo motivo è che con questa tecnica di colorazione si possono miscelare quattro colori, generando una sfumatura romantica, proprio come le sfumature che genera la Luna nel cielo. Il secondo motivo è che come la Luna possiamo creare diversi effetti, solo su una parte della chioma, quindi a spicchio di Luna, oppure generare un contouring, quindi a mezza Luna, fino a raggiungere l'effetto a Luna piena, su tutta la chioma. Si possono ottenere sfumature di tutti i colori, proprio per far sì che il colore che indossi sia frutto di una tua scelta, affinché tu possa sentirti a tuo agio ogni giorno indossando il gioiello più bello.